La presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Oggi abbiamo audizioni informali nell'ambito dell'esame dei disegni di legge numero 2, 21, 131 e 918, norme in materia di attribuzione del cognome ai figli. L'ordine del giorno prevede l'audizione della professoressa Silvia Illari, professoressa associata all'istituzione di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Pavia. Informo che l'audita avrà a disposizione complessivamente 8-10 minuti per il proprio intervento, ci sarà poi spazio per eventuali quesiti dei senatori per una breve replica. Quindi buongiorno professoressa, se crede può iniziare. Grazie mille. Grazie Presidente. Mi sentite? La sentiamo professoressa, può cominciare. Grazie, giunga lei all'intera commissione il mio saluto e il mio ringraziamento per questa opportunità, considerando non solo i quattro disegni di legge in materia di attribuzione del cognome ai figli presentati al Senato nell'attuale legislatura, ma anche quanto emerso da questo ciclo di audizioni che volge al termine e che ha portato ad approfondimenti notevoli quasi oltre le proposte di legge, tre sono i punti che vorrei ascoltare. Troverete poi altre osservazioni sugli aspetti applicativi della riforma legislativa nella memoria che farò avere nei prossimi giorni. Primo punto, rispetto ed eventuale rafforzamento della nuova regola generale enunciata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 131 del 2022. Rispetto della nuova regola lo sottolineo perché i progetti di legge numero 2 e numero 918 attempongono alla regola generale del doppio cognome la scelta di uno dei due cognomi, laddove invece, secondo il principio enunciato dalla Corte, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi confortato, salvo che essi decidano, sempre di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. Durante le audizioni si è anche evidenziata la possibilità di un'ipotesi più forte per favorire l'applicazione della nuova regola nell'ordinamento. Doppio cognome stabilito per legge, introducendo però un criterio automatico per stabilire l'ordine dei due cognomi, quello alfabetico con eventuali correttivi o quello del sorteggio. Entrambi presentano pregi e difficoltà e questo vale anche per altre ipotesi in cui si usino questi criteri. Personalmente preferisco il sorteggio, criterio neutro e paritario rispetto alle due figure genitoriali. Quanto alle difficoltà applicative potrebbe essere impiegato un programma o un'applicazione digitale, sia da parte dell'ufficiale dell'anagrafe sia da parte della direzione degli ospedali o delle case di cura ove si avvenga il parto. La nostra PA è da tempo una PA digitale. Questa introduzione di un criterio automatico per l'ordine del doppio cognome lascerebbe inalterata la possibilità per volontà comune dei genitori di scegliere il solo cognome del padre o della madre e dunque permarrebbe la scelta e il consenso. Tuttavia tengo a precisare che la Corte Costituzionale ama poco gli automatismi anche perché a livello di corti internazionali, mi riferisco in particolare alla giurisprudenza della Corte Edo, l'ordinamento giurisprudenziale predilige l'autonomia dei genitori che si fonda proprio sull'accordo e il consenso e su tali principi si fonda anche il nostro diritto di famiglia ma proprio perché l'obiettivo dell'introduzione dell'automatismo nell'ordine dei due cognomi è quello di rafforzare la regola del doppio cognome che garantisce la parità tra i due genitori e la piena tutela dell'identità del figlio si potrebbe pensare ad una introduzione temporanea di una tale forma di automatismo sul modello della legge 120 del 2011, la cosiddetta Golfo Mosca che ha previsto quote di genere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in borsa o controllate da pubbliche amministrazioni. Come è noto, si tratta di una legge che ha avuto il merito di imporre un riequilibrio di genere che diversamente si sarebbe attuato in un tempo molto più lungo. Secondo punto, nel momento in cui i genitori possono scegliere il doppio cognome o il cognome del padre o della madre e dunque non vi è più l'attribuzione del patronimico in automatico per non lasciare la madre nell'ombra, elemento che la Corte Costituzionale rileva in più punti e in più sentenze vi è la necessità di rendere manifesta formalmente la volontà di quest'ultima all'atto della scelta del cognome da attribuire al figlio o alla figlia quindi sia per i nuovi nati nel matrimonio sia per quelli nati fuori dal matrimonio all'atto della dichiarazione di nascita come regolato dalle norme in materia oltre il Codice Civile l'articolo 30 del DPR 396 del 2000 decreto e anche del decreto del Ministero dell'Interno 5 aprile 2020 che recoa le formule di redazione degli atti ricordo che al presente l'accordo tra il padre e la madre è dato per presunto è sufficiente la semplice scelta esposta verbalmente dal padre o comunque dal soggetto legittimato a rendere la dichiarazione di nascita come far rilevare la volontà della madre è meglio evitare la produzione di documenti da allegare alla dichiarazione in mancanza dei quali si allungherebbero i tempi della formazione dell'atto di nascita quanto alla presentazione di dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di Stato Civile è sottoscritta da entrambi i genitori nella quale venga espressamente indicato l'ordine dei cognomi come nel DDL 2 e nel DDL 21 si tratterebbe di una dichiarazione privata chi garantisce che non sia falsa? la madre dovrebbe dimostrare che il padre ha manomesso la dichiarazione l'indagine sarebbe compressa si potrebbe però inserire la dichiarazione nell'atto di nascita aggiungendo in questo atto che il dichiarante afferma che i genitori hanno raggiunto l'accordo sull'ordine dei cognomi o sul cognome come precisato e riportato nella stessa dichiarazione questa espressa dichiarazione diverrebbe una parte integrante dell'atto di nascita e in caso di falsa dichiarazione costituisce un'ipotesi che risponde a tutti gli effetti di legge terzo punto la necessità di palesare la volontà della madre sulla scelta del cognome da attribuire al figlio in accordo con il padre comporta la modifica del regolamento 396 numero 2000 sull'ordinamento dello Stato civile non basta colmare il vuoto legislativo per adottare una riforma organica del cognome organica secondo l'espressione usata dalla Corte Costituzionale fin dal 2016 vi è l'urgenza anch'essa indifferibile di adeguare le disposizioni amministrative e organizzative alla riforma legislativa del cognome peraltro su questo punto sono intervenuti anche i rappresentanti dell'ordine del notariato quindi in particolare io mi riferisco all'adeguamento del DPR 3 novembre 2003-96 sull'ordinamento dello Stato civile ma altri sono i regolamenti che entrano in gioco quindi io mi riferisco a quelle regole e procedure della dichiarazione di nascita che di fatto nel regolamento in oggetto si riferisce sempre ad un solo genitore o ad un solo cognome su questo punto specifico dell'attuazione amministrativa della riforma tutti e quattro i disegni di legge presentati al Senato si limitano a inserire un articolo finale titolato modifiche alle norme regolamentari in materia di Stato civile articolo che demanda ad un successivo regolamento attuativo da adottarsi entro sei mesi nel caso di DL 131 e 21 se non addirittura un anno di DL numero 2 e numero 918 dall'entrata in vigore della legge di riforma organica proprio per inserire le indispensabili riforme e integrazioni al regolamento dell'ordinamento dello Stato civile poiché però senza la modifica del regolamento la riforma voluta dal Parlamento rimane sulla carta si potrebbero considerare altre soluzioni faccio solo presente che un problema analogo si è posto nel 2016 per adeguare proprio lo stesso regolamento alla nuova disciplina sulle unioni civili contenuta nella legge 76 2016 come fu risolto allora il problema e arrivo alla conclusione la soluzione fu molto rapida adozione di un DPCM per una fase provvisoria ma soprattutto la legge sulle unioni civili conteneva un articolo che era una legge delega al governo con principi e criteri direttivi e l'indicazione degli articoli del regolamento che presentavano problemi fu istituita una commissione interministeriale molto colposa presso il Ministero di Giustizia e in pochi mesi fu elaborata una serie di decreti in particolare il decreto attuativo 19 gennaio 2017 numero 5 per l'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello Stato civile la stessa soluzione potrebbe essere introdotta nella legge di riforma organica qui in esame più in generale vi è anche la possibilità e ho concluso dell'uso delle cosiddette norme autoapplicative contenute all'interno della legge di riforma organica del cognome come è noto sono norme suscettibili di applicazione diretta ossia senza che si renda necessario un deferimento per la concreta attuazione delle disposizioni della legge medesima a fonti di natura secondaria dal punto di vista contenutistico queste disposizioni forniscono una disciplina completa, dettagliata e puntuale di principi a monte già espressi dalla legge medesima e spesso sono norme idonee a disciplinare specificamente aspetti organizzativi e gestionali per dare concreta attuazione e applicazione immediata alla legge nel caso della riforma sul doppio cognome la norma autoapplicativa può essere giustificata dalle peculiari caratteristiche della materia materia densissima, complessa e vasta grazie professoressa grazie anche per la sintesi ci sono domande da parte dei commissari all'audita direi di no lei ha presentato memoria scritta una nota scritta no ma la presenterò ero per ragioni scientifiche all'estero e quindi sono appena rientrata e l'ho scritta ma ci ragionerò ancora qualche giorno e ve la manderò certamente la ringraziamo professoressa grazie a tutti quindi possiamo concludere l'audizione grazie grazie grazie